Cari amiche, cari amici, vi devo confessare che leggendo certi giornali mi viene da pensare che io sia Berlusconi e vi dico, vi assicuro che finché sono Berlusconi, gli italiani lo sanno, voi lo sapete, questo nostro incontro settimanale non passerà mai. Cari amici, come ormai tutti sapete sono Presidente del Consiglio, anzi direi a questo punto che è giusto ricordare che io sono Berlusconi, ogni qualvolta la situazione lo richieda. Ebbene, è giunto il momento e voglio sottolineare che io non ho alcun timore come qualcuno continua a dire di farmi un topolino e questo accade solo in Italia. Un saluto affettuoso a tutti voi.